Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 19 settembre 2018, ancora una volta le spalle sono le protagoniste delle nostre skills e infatti faremo di nuovo riscaldamento per le spalle anche questa volta facendo delle circonduzioni con le braccia seguite da una serie di scapula push up e una serie di scapula pull up. Dopodiché avremo un 10-15 minuti circa per esercitare delle progressioni di press, press chimiche e possiamo fare varie progressioni e anche in questo caso il vostro trainer saprà consigliarvi cosa dovete fare in funzione del livello al quale siete. Dopodiché passeremo al WOD, oggi abbiamo un ARP 8 minuti e abbiamo un ascending lug door quindi una scala che sale con 2, 4, 6, 8, 10, 12 eccetera ripetizioni fino ad arrivare a 8 minuti, 2, 4, 6, 8, 12 che sono Toss to Bar e Barpees. Per gli Intermediate e i Beginners invece dei Barpees avremo dei Knees to Chest oppure ancora meglio dei 4 Flights to Tap. Questo è più o meno tutto, buon divertimento, ci vediamo domani in QOD.